Musica Ben trovati con GTFN Weekend, la rassegna delle notizie più importanti della settimana. Qui in studio con noi un ospite che è forse per la prima volta a GTFN Weekend in questi 5 anni. Abbiamo invitato l'assessore Giuseppe Tuminelli. Non a caso questo invito, assessore. Intanto benvenuto nei nostri studi. Grazie, sono lieto per essere presente qui quest'oggi. Non a caso perché questa è stata la settimana delle opere di compensazione. Fossanco che si parla di opere di compensazione da quasi 15 anni. Però questa settimana c'è stata l'assemblea dei comitati di quartiere nella quale si è parlato tanto delle opere di compensazione. Nel giorno 13 andrete a Roma a parlare con Anas, con il General Contractor e sperando che partecipino con tutti quanti i deputati nazionali della nostra provincia per appunto discutere di queste opere di compensazione che sembra essere la storia infinita. E infatti, quindi la pensiamo allo stesso modo. Assolutamente sì. Allora, partiamo subito dall'inizio. Ci vuole dire quali saranno le opere di compensazione in un minuto? Certamente. Come lei diceva, giustamente se ne parlano da tantissimi anni delle opere di compensazione. Va detto che una parte delle opere di compensazione sono state in realtà già realizzate perché quelle inserite nel famoso progetto esecutivo redatto dal General Contractor e approvato da Anas. General Contractor, spieghiamolo che è la CMC. In pedocle 2, sì, in pedocle 2 e quindi la CMC. Per ciò che concerne per l'appunto le opere di compensazione erano suddivise a suo tempo nel progetto esecutivo in tre ambiti. Bonifica delle discariche esauste RSU, tra le quali troviamo la discarica Montestretto e altre due discariche ricadenti nel comune di San Catalto. Mentre le altre due macrovogi erano relative a cave esauste e dall'altra parte a rimodellamenti morfologici di terreni in entrambi i casi di privati. Detto questo, quindi dobbiamo dire per l'appunto che una parte di queste opere di compensazione in realtà sono già state realizzate. Ma noi non le abbiamo viste perché sono nei terreni di gente privata, di privati cittadini. Assolutamente, certamente. Infatti nelle tre macrovogi erano state stanziate qualcosa come circa 8 milioni e mezzo nell'ambito proprio delle opere di compensazione ambientale. più altri circa 13-14 milioni di euro nell'ambito delle mitigazioni ambientali. Detto questo, il Consiglio Comunale nel giugno del 2017 si è espresso in ordine all'utilizzo della quota rimanente, ovvero dei 2,8 milioni di euro relativi alla bonifica della discarica Montestretto per la quale il comune di Caltanissetta ha avuto, attraverso il patto per il sud, lo stanziamento di ben 11 milioni di euro. Per questo motivo il Consiglio Comunale ha deliberato, richiedendo una rimodulazione di queste opere di compensazione, individuando in bivio la spia quell'azione di risanamento ambientale relativa al dissesso idrogeologico che è tuttora in corso. Quindi non lo rifaranno da capo, lo sistemeranno? Il bivio la spia? Sì, l'opera, i 2,8 milioni di euro saranno indubbiamente utilizzati per cercare di contenere il dissesso idrogeologico della zona con la finalità di riaprire una volta per tutte la circonvallazione di bivio la spia che è chiusa da più di 40 anni probabilmente e che in un ambito di viabilità cittadina diventa un importante asse di collegamento tra la 640 e quindi lo svincolo A19 Caltania-Palermo con la zona del centro storico Santa Barbara-Fierrio e quant'altro. Si parlava di via Mangialasagne perché all'interno dell'assemblea dei comitati di quartiere c'era il presidente del comitato di via Mangialasagne che racconta appunto dei disservizi che loro hanno nella loro strada perché è stata una strada battuta da camion che hanno portato ovviamente lavoro alla 640 quindi hanno portato tutto quello che era necessario per la costruzione e quindi la strada è stata completamente dissestata. Questa strada verrà risistemata e fa parte delle opere di compensazione? Facciamo chiarezza? La strada verrà risistemata al pari della ex 122 bis per la quale ANAS ha già presentato all'ufficio tecnico del comune di Caltanissetta un progetto preliminare per la messa in sicurezza di tutta la strada ovvero contenente opere di lì per il risanamento per il contenimento del dissesto idrogeologico, per il rifacimento del cassonetto stradale e per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. In questi lavori ci sarà anche l'innesso alla via Mangialasagne. Le somme non sono prelevabili dal quadro delle opere di compensazione del progetto esecutivo dell'ammodernamento della 640 ma è un accordo tra il comune di Caltanissetta e ANAS che riconoscendo tutto quello che la comunità nissena di aver dissestato di aver dissestato ma dall'altra parte ha patito e sta patendo tuttora tutto quello che concerne la chiusura del viadotto San Giuliano allora per questo motivo ANAS ha accordato all'amministrazione il rifacimento con somme devo dire anche notevoli secondo il progetto che ci hanno presentato e che abbiamo stimato del rifacimento per l'appunto dell'ex 122bis ivi comprensivo l'innesso alla via Mangialasagne. Su quest'ultima vorrei anche aggiungere che comunque l'amministrazione conscia del fatto che dobbiamo sempre rimanere vicini ai cittadini ha investito in due anni l'anno scorso e quest'anno circa 30.000 euro a bilancio comunale per il rifacimento della strada che collega per l'appunto la stessa via Mangialasagne a Contrada Pescazzo quindi in questo c'è stato anche un interesse da parte dell'amministrazione proprio per alleviare i disagi dei residenti della zona. Due cose le devo chiedere la prima è allora a Roma che ci andate a fare di cosa parlerete probabilmente chiederete un cronoprogramma cioè prima che questi vanno via perché abbiamo visto che i cantieri a un certo punto si sono svuotati poi è arrivato l'assessore regionale Falcone e di tutto botto si sono rimessi a lavorare dopodiché dico a Roma che farete? Seconda cosa mi deve dare delle certezze sul viadotto San Giuliano? Quest'ultima rientra tra le cose che chiederemo con certezza ad ANAS chiederemo le relazioni che sono state fin qui prodotte dagli esperti incaricati da ANAS nell'ambito del monitoraggio da una parte e verifica statica geologica di questi piloni che compongono il viadotto San Giuliano e poi chiederemo non solo di firmare il prototipo Ma abbiamo qualche notizia anche così di svincio lei da ingegnere cosa sa? Il problema del viadotto San Giuliano è un problema che c'è, è un problema evidente è un problema di tipo statico perché quella zona è tutta... L'onorevole Cancelleri parlava di che sarà abbattuto, saranno abbattute dei piloni Sì, per quello che diceva l'ingegnere Mele che è il coordinatore regionale di ANAS in un incontro tenuto il 31 agosto in prefettura, faceva presente che probabilmente si dovrà procedere alla demolizione di tre piloni e con relativi impalcati e provvedere alla realizzazione integrale di questi tre piloni con tutto il resto Sinceramente lei che tempi prevede? Lo stesso ingegnere Mele in quella seduta ha fatto presente che stanno lavorando per appaltare i lavori di demolizione o comunque di rifacimento di messa in sicurezza del viadotto San Giuliano entro il primo semestre del 2019 È una tempistica che effettivamente se rispettata ci convince rispetto a tutte le altre problematiche di viadotti che purtroppo abbiamo anche in Sicilia e che le cui cronache ci dicono ci fanno sapere quotidianamente delle difficoltà che ci sono in altre zone Non per ultimo il ponte Moranti di Agrigento che è stato chiuso nel 2015 in cui i lavori sono iniziati ora Il viadotto San Giuliano è stato chiuso nel 2017, inizio del 2017 e ANAS dice che i lavori saranno appaltati entro il primo semestre del 2019 Allora guardiamo il primo treno dei servizi e dopo continuiamo a parlare di questo vostro incontro romano e di alcune cose cittadine che poi ci riguardano veramente da vicino non che le opere di compensazione ma anche meno assolutamente Quindi il primo blocco dei servizi Promettono battaglie i comitati di quartiere, assemblea cittadina per parlare dei danni dovuti alla mancata realizzazione delle opere di compensazione La realizzazione dell'impianto della 640 ha portato numerosi disagi durante gli anni e ancora di più se il general contractor, ovvero la CMC, non lascerà neanche le opere di compensazione Tra le zone più colpite, quella di via Mangialasagne Molto soddisfatto, la cittadinanza ha risposto positivamente al nostro appello Alla fine di tutto anche il sindaco si è preso degli impegni per la città Quindi prevediamo, pensiamo di redare una relazione dettagliata con tutte le richieste, con tutte le criticità, con tutte le lamentere tutto quello che abbiamo ricevuto stasera in questa sede così che il sindaco potrà portarsela a Roma e se vorrà potrà portarsi anche qualcuno di noi Sarebbe anche opportuno farlo Pur non di meno, il giorno 15 ci ha dato appuntamento di nuovo in questa sede e che servirà a fare un'altra assemblea cittadina dove il sindaco spiegherà, ci delugiderà su tutto ciò che è riuscito a ottenere a Roma E in questa sede, il giorno 15, la città deciderà il da farsi se le risposte saranno positive o se le risposte saranno negative Tante le storie ascoltate durante la follata riunione che si è tenuta la biblioteca Scarabelli a moderare il giornalista Gian Piero Casagni Tra tutte quella di Calogioro Dirzi, un giovane imprenditore che ha raccontato della sua storia di quotidiano abbandono ha parlato di indifferenze e di mortificazioni Siamo un'azienda produttrice nel campo agricolo, nel settore agricolo e la nostra azienda è sita proprio sulla 640 ed effettivamente abbiamo avuto sì dei disagi ai quali noi comunque abbiamo affrontato perché comunque è un'opera imponente del quale anche noi siamo consapevoli che è importantissimo però siccome abbiamo visto, come ripeto, che nella costruzione del corpo stradale non è stata attenzionata le opere di convogliamento e smestimento di acque ha provocato dei danni alle proprietà limitrofe L'ho detto, chiediamo tutti i livelli, sia istituzionali che anche riguardante le imprese come la Camera di Commercio con il nuovo commissario e con altre istituzioni politiche, tutti i politici di venirci a trovare e a stare al nostro fianco perché noi portiamo ricchezza, noi pensiamo che portiamo lavoro e benessere Numerose le proposte, dalla class action alla protesta plateale anche a Roma se necessario ma tante le domande, dalla quantificazione del danno subito all'elenco preciso delle opere di compensazione che dovranno essere realizzate non quelle della delibera CIP ma quelle che sono state votate dalla proposta di delibera del Consiglio Comunale Sicuramente negli ultimi mesi, nelle ultime settimane qualcosa si sta smuovendo nelle coscienze dei cittadini noi siamo qui come amministrazione a volere proprio ascoltare la loro protesta legata a tutto quello che si sente dire da più di dieci anni nell'ambito delle opere di compensazione rispetto a tutto quello che ancora non è stato realizzato io ho cercato in ultimi tempi di fare innanzitutto chiarezza proprio nell'ambito e nell'argomento delle opere di compensazione ma ora oltre ad aver fatto chiarezza quello che si deve fare è invece un'azione forte, un'azione congiunta con tutta la deputazione a livello nazionale e a livello regionale per cercare di fare squadra e per fare valere le ragioni di un'intera comunità ecco perché saremo il giorno 13 a Roma a voler chiedere all'ANAS conto di tutto quello che ancora non ha realizzato tempi certi, date, luoghi, avvenimenti, fatti, cosa ci può raccontare? vi posso raccontare che l'Unicore ha avuto un appalto attraverso la CMC ovvero d'ANAS la redazione del progetto preliminare per ciò che concerne il bivio la spia e questa è la prima cosa nell'ambito delle opere di compensazione ANAS ha altresì inviato il protocollo di intesa che firmeremo a breve per ciò che concerne la messa in sicurezza dell'ex 122 bis arterial quanto importante nella viabilità lo abbiamo visto nelle ultime settimane con somme non derivanti dal quadro delle opere di compensazione e in ultimo anche ciò che riguarda l'innesso alla via Mangialasagna di cui anche oggi è stato presente il comitato di quartiere avendo avvenziato una serie di problematiche il documento finale della riunione sarà inviato alla procura della repubblica intanto l'amministrazione incontrerà il 13 dicembre a Roma e in riunione l'ANAS e la CMC assieme ai deputati nazionali probabilmente è presente anche il ministro Danilo Tolinelli almeno il sindaco gli ha scritto in merito anche se il ministro non ha risposto Pare ci siano buone notizie in merito ai lavori di ammodernamento della strada statale 640, Grigento, Caltanissetta l'assessore regionale alle infrastrutture e mobilità Marco Falcone ha incontrato la CMC Ravenna e ANAS si parlerebbe infatti di una ripresa dei lavori e di una prosecuzione del rapporto tra le parti la regione dovrebbe inoltre ricevere nei prossimi giorni anche il cronoprogramma dei lavori è stata trovata una soluzione alternativa per contrastare la ricrescita delle erbe infestanti nelle zone di pertinenza comunale dato che non è più possibile effettuare il diserbo chimico un'idea che pare sia già stata attuata anche in altre città si tratta del piro diserbo una pratica che attraverso il calore provoca la morte della pianta a distanza di pochi giorni lo scerbamento di marciapiede scalinata attualmente viene garantito dalla ditta che si occupa dei rifiuti mentre quella affidataria del servizio del verde pubblico interviene nelle ville comunali, aiuole, aree verdi di scuola e immobili comunali intanto però in supporto degli interventi vengono effettuati anche dalle squadre comunali composte o dal personale del comune o dai mini cantieri e saranno proprio loro che utilizzeranno il macchinario recentemente acquistato dal comune per mettere in pratica il piro diserbo l'intervento riguarderà le ville e parchi comunali la tecnica ritardando la crescita delle erbe infestanti eviterebbe il taglio meccanico molto più frequente e generalmente necessario per ovviare il problema con un risparmio economico per il comune Allora Sessore Tuminelli quindi cosa chiederete proprio me lo deve dire in un flash perché poi dobbiamo parlare di scerbamento di San Luca, di altre cose cosa chiederete a Roma? Notizie certe e tempistiche e cronoprogramma per ciò che riguarda il viadotto San Giuliano la stipula del protocollo di intesa con ANAS per ciò che riguarda il rifacimento e la messa in sicurezza dell'ex 122 bis IVI comprensiva l'innesso alla via Mangialasagne tempi certi e cronoprogramma per ciò che riguarda la realizzazione dell'opera di compensazione riguardante il bivio e la spia Lei è pronto alla battaglia? Sono assolutamente pronto alla battaglia come lo sono sempre stato dobbiamo aspettare che ANAS una volta per tutte ci dica come intende procedere per poi essere affiancati anche in questa eventuale battaglia ai comitati di quartiere per cui va fatto un ringraziamento da parte del sottoscritto da parte dell'amministrazione tutta per quello che sono riusciti a organizzare qualche giorno fa in un'assemblea pubblica avendo ad oggetto proprio le problematiche della 640 Ma lei pensa che poi ci vogliono i cittadini che organizzano le assemblee per spingere su degli atti dovuti perché poi le opere di compensazione sono degli atti dovuti sono degli atti dovuti però ahimè sappiamo sempre quali sono le trafile e le lungaggini burocratiche Lei poco fa ha detto dobbiamo aspettare forse il tempo di aspettare è finito Il tempo di aspettare è indubbiamente certamente finito proprio perché lo abbiamo detto prima se ne parla se ne discute da ormai 10 anni i lavori si stanno completando e quindi una volta per tutte Caltanissetta vuole anche vedere ciò che è previsto nel famoso progetto esecutivo o comunque rispetto a una rimodulazione delle richieste che noi siamo riusciti a chiedere da una parte e a ottenere perché voglio dire che nell'incontro romano che c'è stato all'inizio di quest'anno a gennaio siamo riusciti per la prima volta dopo 10 anni a mettere attorno a un tavolo il Ministero dell'Ambiente il Ministero delle Infrastrutture ANAS General Contractor Comune di Caltanissetta e anche Comune di San Cataldo questo pare chiaro e ovvio perché il soggetto decisore nell'ambito delle opere di compensazione non è certamente ANAS ma sopra ANAS c'è un soggetto che si chiama Ministero dell'Ambiente e anche Ministero delle Infrastrutture e noi siamo riusciti a ottenere chiedendolo perché lo ha chiesto innanzitutto il Consiglio Comunale che è espressione di un'intera città la rimodulazione delle opere di compensazione e quindi siamo andati direttamente alla fonte decisionale per ottenere ciò che il Consiglio Comunale e quindi la città tutta ha richiesto per quello che si può fare ad oggi rispetto a un qualche cosa che doveva essere fatto tempo fa ovvero la richiesta di ulteriori a mio modesto modo di vedere ulteriori lavori che invece di essere effettuati in siti di privati che comunque sono previsti dalla legge realizzare opere che sarebbero state fruibili da tutti i cittadini con la speranza che i cantieri non vadano via e quindi poi sarà più difficile tornare questo è il suo compito quello di sorvegliare i tempi nel senso che deve fare in modo che tutto questo accada e a voi rimangono solo sei mesi purtroppo a questo punto questo accada prima che i cantieri vengano smantellati chiudiamola qui perché dobbiamo parlare di un'altra cosa c'è lo scerbamento in città che avete comprato questa cosa che brucia insomma ora ce lo spiegherà e poi le devo dare diritto di replica perché a San Luca il presidente del comitato di quartiere abbiamo tanti comitati di quartiere come mai prima in questa città aveva ha detto che c'è un angolo che potrebbe diventare il nuovo angolo della vergogna uno ce l'abbiamo ce l'avevamo insomma a tratti in Via Red Italia adesso un altro a San Luca cosa risponde in merito rispondo nel merito che abbiamo iniziato da pochissime settimane la bonifica dei siti contenenti da una parte sfalci potatura o comunque materiale di levario di vario genere ma dall'altra parte anche la presenza di amianto va detto che il comune spende a bilancio e prevede a bilancio somme ingenti per realizzare la bonifica di questi siti detto questo al comitato di quartiere e nella persona di Nello Ambra dico che la bonifica di questo sito verrà effettuata settimana prossima secondo l'elenco prestabilito che se mi avesse chiesto e mi avesse interpellato gli avrei detto proprio come sito ma noi siamo dei media quindi facciamo da intermezzo l'ha detto a noi e lei lo sta rispondendo va bene abbiamo fatto il nostro mestiere un problema è stato risolto parliamo invece dello scerbamento c'è questo problema la regia mi chiede la linea per la pubblicità allora andiamo in pubblicità e poi parliamo dello scerbamento pubblicità il problema dell'erba in città è stato il suo problema infestante nel corso di questo mandato diciamo perché insomma l'abbiamo chiamata per tutte le esigenze che riguardavano la città e non non si riesce mai a coprirle in definitiva quello è il problema e lei me lo ha spiegato mille volte perché adesso avete trovato un sistema intanto per coprire un buco cioè che è quello delle erbe delle ville delle zone pubbliche che non sono però le scalinate che però non sono le strade ma invece per le scalinate e le strade cosa fate cosa farete bisogna cambiare il contratto io faccio le domande io do le rischio diciamo e spieghiamo una volta per tutti ai cittadini come funziona l'ambito dello scerbamento in città abbiamo pochissimo tempo per ciò che concerne marciapiedi strade scalinate questo lo scerbamento viene effettuato dalla ditta che si occupa del recupero dei rifiuti del servizio di spazzamento e gestione dei rifiuti in città per ciò che concerne invece lo scerbamento e la manutenzione ordinare e straordinare del verde in città inteso come ville parchi aiuole spartitraffico e quant'altro viene questo effettuato dalla ditta che si occupa e alla quale viene subappaltato appaltato dal comune Caltanissetta la manutenzione del verde oltre questa ditta ci sono comunque delle squadre che abbiamo messo su abbiamo organizzato nei ultimi mesi di cui fanno parte degli operai del comune da una parte i mini cantieri di lavoro dall'altra do notizia che entro due settimane partirà un'altra squadra composta da due detenuti del carcere Malaspina con il quale abbiamo firmato un protocollo d'intesa insomma stiamo mettendo su cercando di mettere su delle squadre di contrasto nel vero senso della parola al problema di decoro che ahimè tutti i cittadini vedono e questo perché va anche detto e chiarito dal 2016 ovvero da due anni da appena due anni è stato messo al bando a livello comunitario l'utilizzo del diserbo chimico pertanto se prima sino a due anni fa poteva essere utilizzato e questo sicuramente era un deterrente importante alla ricrescita delle erbe infestanti adesso non si può fare più per legge e quindi l'unica modalità è il taglio meccanico il comune di Caltanissetta come tutti gli antrienti ha difficoltà economiche oggettive per poter prevedere in uno stesso sito un taglio mensile e pertanto nella ricerca che ho condotto a titolo personale ho individuato una delle tante modalità questo strumento che attraverso un getto di calore va a seccare praticamente la pianta sino alla radice perciò questo dovrebbe comunque contribuire a una ricrescita indubbiamente più lenta dell'erba infestante e anche questa è una modalità di contrasto alla ricrescita e alla presenza di queste erbe in città io voglio fare l'avvocato del diavolo perché tutte queste cose solo adesso che state finendo guardi io mi occupo di questo solo da da poco tempo ma c'è da dire perché da poco tempo come ho detto prima da due anni a questa parte il problema delle erbe infestanti a causa del fatto che il diserbo chimico non si può più utilizzare allora il nostro tempo è finito quindi tutte le domande riguardanti la politica se le è scansate tutte quindi lei si può considerare oggi un uomo fortunato anche perché se no la regia ci sfuma l'impegno è che giorno 13 andate a Roma andate a battere i pugni e poi ci venite a raccontare che risultato avete portato stiamo qui con diciamo siamo la vostra spada di Damocle sul collo la città è la vostra spada di Damocle ed è giusto che sia così quindi ci rinnoviamo l'appuntamento al ritorno da questo incontro giorno 13 va bene grazie assessore di essere stato con noi di essere stato così chiaro in alcune cose che poi possono sembrare molto complicate molto complicate a volte perché si parla di delibere di accordi di patti poi invece dobbiamo parlare di nomi di strade di vie di cittadini che devono poter uscire dal loro cancello questo è il dato grazie per essere stato con noi a tutti i nostri telespettatori invece noi rinnoviamo l'appuntamento per la prossima edizione di GTFN Weekend e vi auguriamo un buon fine settimana a tutti i nostri telespettatori